ci siamo stati con il prodotto italico ci siamo stati col prodotto teutonico ci siamo stati con la compilation di xkr posseduta jaguar house cabrio cup house silverson tutte ci siamo stati con con sicuramente col q5 di ma ci siamo stati quest'anno ci andiamo col cinquino abbia niente l'importanza l'importante è che ci andiamo e che ci troviamo e per vedere di puntare più bello del mondo quello che ogni anno appena arriviamo ci richiama e andarci col cinquino è comandarci col prodotto italico col 599 non cambia niente perché questa è bella questa è bella quanto il 599 ma quanto è bello ma quanto è stupendo ma quanto è stauce ma quanto è italica ma quanto è vecchietta però non molla quanto prima ci siamo andati in tre come stavi là dietro favoloso esattamente come andare sul 599 per vedere eccoci qua ti è guarda che spettacolo che spettacolo per vedere nazionale secondo te sto male ogni anno appena arriviamo a puntare bel vedere è tappa d'obbligo cinquino vecchio cinquino nuovo ma secondo te stiamo male? no ma guarda che spettacolo che spettacolo guarda che lavoro guarda che lavoro ciao ciao bellissimo per vedere superviero young boys ragazzi gioventù italica cinquino e lucrezia internazionale ma secondo te stiamo male? no ma guarda la vita verai? e te frega te facile eh con il patriarca che telecamere che c'è stai davano che disagio sta mortando il tramonto e sta a pezzare la telecamera sei una bruttissima persona sì ma il tramonto non c'è il tramonto non c'è? eh beh perché è tramontato se è tramontato non è reato solo è tramontato non l'è reato cinquino scappottato non l'è reato lucrezia e sta maltrattato l'è un po' reato e quindi sa comportati bene tu maschio italico stavus